Da oggi a Torre del Grifo si ricomincia a fare sul serio perché nel mirino del Catania ci sarà soprattutto la partita di domenica sul campo del Siracusa. Il match è stato anticipato dalle 20.30 alle 14.30 su richiesta degli Eretusei, che saranno i primi avversari del 2019 dei rossazzurri chiamati a vincere a tutti i costi per riprendere la rincorsa al primo posto della Juve Stabia. D'ora in poi quindi Sottili inizierà a studiare l'unici titolare da schierare, ma è molto probabile che si vada verso la conferma del 4-3-3 base ed ormai diventato titolare fino a quando non si registreranno arrivi che tenderanno a stravolgere i reparti. Il riferimento è ovviamente soprattutto per l'attacco che ad oggi si dovrebbe rivedere nuovamente in campo con il tiro composto da Curiale, Marotta e Mannè. Nel frattempo infatti si attende che si sblocchi la trattativa con il Cosenza per il passaggio di Matteo di Piazza in Maglia Rossa Azzurra, per il quale lo Monaco ha lasciato intendere che il Catania comincia ad essere stufo di attendere. Lo stesso vale per la trattativa legata all'arrivo di Polumbo dalla Salernitana, per il quale è tutto fatto da giorni e si attende l'input definitivo per dare l'ufficialità. Resta in stand-by invece almeno per il momento quella con Sarno, che non sembra intenzionato a fare passi indietro rispetto alle pretese economiche avanzate per passare ai rossazzurri, che magari aspetteranno l'ultimo giorno di mercato per capire se il giocatore diventerà un'occasione dell'ultima ora anche dal punto di vista contrattuale.